Immediatamente un commento di Rosy Bindi, che ha detto addirittura era prevista la sua partecipazione, come quella di Vendola, di Padellaro, però ha detto non sapevo se venire perché sto soffrendo, ma è vero? Sì, che dire, quello a cui stiamo assistendo è qualcosa di veramente di deprimente, ma lo dico non solo per le persone che sono interessate, purtroppo per il nostro Paese. Lo dice perché è un avversario politico? No, guardi, se la mettiamo su questo punto, da opposizione a questo governo, da cittadina in opposizione a questo governo, direi continuate così. Sarebbe nell'interesse di un'opposizione, perché se continuano in questo modo, a parte questo caso, questa miseria, diciamo così, a quale stiamo assistendo, per la loro incapacità di governare questo Paese, per costringerci a parlare di questo quando ci sono problemi enormi, l'interesse di un'opposizione è quello che chiaramente l'alternativa sarà sicuramente più semplice, ma siccome sono più interessata al bene dell'Italia che non al bene di una parte politica, tutto questo sta facendo molto male alle istituzioni di questo Paese, al governo, sta facendo male all'Italia e credo che stia facendo male alla democrazia italiana, perché tutto quello che sta avvenendo non fa che aumentare quell'abisso che è sempre più grande tra la politica, le istituzioni e i cittadini. Si può dire una cosa, si può dire che...